La nuova scusa di chi condivide bufale è Anche se si tratta di una bufala, il fatto che possa essere credibile è già grave, quindi la condivido. Poi ne abbiamo un'altra scoperta settimana scorsa. Non mi importa che sia una bufala, magari se la condividiamo tutti insieme, succede davvero. Questa scusa però viene usata di più sulle notizie politiche o sulle idee. Il problema sta proprio nelle persone, non solo non riescono ad elaborare una bufala palese, ma inventano delle scuse soltanto per non dire Ho sbagliato, scusate. Il problema delle bufale è talmente importante e radicato che bisognerebbe trattarlo alla strega di una malattia da debellare. Insomma, bisogna agire con fermezza. E a voi com'è andata questa settimana? Io ho eliminato una decina di bufalari dalle mie amicizie. E sì, visto che Facebook purtroppo non banna né i siti né queste persone, perché ovviamente gli conviene, l'unica cosa che noi possiamo fare è eliminarli dalle nostre amicizie. Togliete l'amicizia a queste persone, specialmente quando non ammettono le proprie colpe. Agire con fermezza, oggi, è l'unica via. Con la storia di questa è la mia opinione, anche quando davanti ad una bufala palese non c'è una missione di colpa, gli ambienti social stanno sprofondando sempre di più. Parlando per esempio di cosa c'è nell'universo al di fuori del nostro sistema solare, io preferisco dare credito agli scienziati ai dati, non alle persone che su Facebook si sentono come sul trono di Maria De Filippi. Togliete l'amicizia a questa gente. Facile.